Mi ha molto colpito il modo in cui questi 40 minuti, diciamo, questo appuntamento in sala dei Tassinari sia stato presentato nel programma ed era così, torniamo alla Bibbia da cui ci siamo allontanati. Quindi i frati si sentono lontani dalla Bibbia, no è una battuta. Sì è vero dalla Bibbia ci siamo allontanati, il soggetto può essere la Chiesa Cattolica, c'è stato un periodo molto lungo di una certa distanza se non altro del popolo di Dio dalla Bibbia, sicuramente dalla riforma luterana. Quindi siccome noi tra poco tempo, nel 2017, festeggeremo i 500 anni appunto della riforma luterana, il Papa Francesco sarà anche contento, diciamo, di festeggiare insieme ai cristiani luterani. Sì certo c'è stato un lungo periodo in cui, per ragioni appunto legate alla storia proprio della Chiesa, la distanza dalla Bibbia è stata un fatto, un'esperienza proprio. Ma certo parlare di perdono senza la Bibbia è piuttosto difficile in effetti e allora mi ha molto, come dire, mi ha stimolato, mi ha anche incuriosito l'idea di vedere quanto noi, quanto il sentire comune intra ecclesiale, cioè dentro la Chiesa Cattolica e extra ecclesiale, quindi diciamo laico nella società, nella cultura in cui respiriamo, cultura laica, quanta distanza ci sia proprio in merito alla parola perdono dalla Bibbia. E quindi parto proprio da questo, ma che cos'è il perdono, cioè che cosa significa il perdono? E partire da questa antitesi appunto, ce ne sono diverse, nel capitolo 5, ovviamente il discorso cosiddetto della montagna, sono i capitoli 5, 6, 7 del Vangelo di Matteo, ecco, e dentro, appunto subito dopo le Beatitudini Gesù comincia con queste antitesi, un'antitesi è occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, ecco, naturalmente questa antitesi viene letta come l'apertura di Gesù al perdono e quindi l'abolizione o il superamento dell'occhio per occhio, dente per dente, vita per vita, che è una sintesi, a sua volta, della cosiddetta legge del taglione. La legge del taglione prevede una simmetria, simmetria. Se tu mi cavi un occhio, io ti devo cavare un occhio e così siamo pari. Se tu mi togli la vita, io devo toglierti la vita, cioè un mio parente deve farlo per me, perché appunto ha una direttrice che è la giustizia, o un certo tipo di giustizia, la possiamo chiamare la giustizia retributiva, cioè se tu mi fai una cosa buona, io faccio una cosa buona a te, ti benedico. Ma se tu fai un male, mi togli qualcosa, cioè una detrazione proprio, io devo fare altrettanto, in modo... C'è un aspetto pedagogico nella legge del taglione. L'aspetto pedagogico è questo, che la tua vita valga come la mia. E non era così scontato, perché c'era prima della legge del taglione la famosa legge di Lamech, per cui sette vite per una, noi poi abbiamo vissuto dieci vite per una, di recente, nel secolo breve. Quindi è già un progresso la legge del taglione della giustizia. Non solo, ma se qualcuno facesse nel bacino del Mediterraneo, non so, una scaffittura, o semplicemente un'offesa, un insulto, una parola, o anche perfino uno sguardo storto a un re, questo poteva tranquillamente uccidere i re del vicino Oriente antico, potevano tranquillamente, non so, la vita dello schiavo non valeva niente, anche a Roma lo schiavo si chiama cosa, res, quindi... Ecco, come dire, il perdono come qualcosa che abolisca la legge del taglione, o come qualcosa che sia una, come dire, una frattura in questo tipo di giustizia. Ma allora sentivo proprio il bisogno, dico, ma quanto è lontano dalla nostra cultura di oggi questo, o quanto sia vicino. E allora sono partita proprio, quindi, un attimo, vi propongo, no, il mio brevissimo, diciamo, percorso, e anche un po' icastico come percorso, cioè vado per suggestioni. Partirei proprio da... Dunque, la tesi è questa, il grande sconosciuto è il perdono, non la legge del taglione. La legge del taglione, alla fine, non è una grande sconosciuta. Si capisce perché si possa. Certamente molti di noi rifiutano la pena di morte, ma vi ricordo che la pena di morte anche nello Stato Pontificio ci fosse, ma anche poi in Vaticano c'è stata per molti decenni la pena di morte. Cioè, per far capire che questa giustizia retributiva, che, sì, si può anche chiamare vendetta, tu ammazzi mio figlio, io ammazzo tuo figlio. Si può anche chiamare la legge della faida, in Sardegna ancora oggi bisogna fare pari, quindi, insomma, c'è questa esigenza. Ecco, non mi sembra così distante, comunque, dalla nostra, diciamo, cultura occidentale attuale, quanto, invece, il perdono. E allora partirei proprio dal bilancio che ormai i cattolici possono fare dell'anno giubilare, un anno giubilare consacrato alla misericordia, che non è, tuttavia, non equivale al perdono. La misericordia, come ha scritto molto bene Piero Stefani, che è qualcuno che abita molto vicino, avrebbe potuto parlare molto meglio di me del perdono nella Bibbia, ha scritto questo libretto che è veramente una chicca, le donne e le derrabbie, e poi ne ha fatto anche un altro, i nomi della misericordia. Ecco, giustamente, Piero Stefani dice, la misericordia ha due registri. Uno è avulso dal peccato, dalla colpa, dal peccato. Perché? Perché riguarda, per esempio, le 7 più 7, cioè 14 opere di misericordia. Quest'anno si è molto parlato di questo nella Chiesa. Le 14 opere di misericordia, corporali e spirituali, non c'entrano niente con la colpa. Si tratta di affrontare, Piero Stefani dice molto bene, la debolezza umana, l'impotenza umana. Quindi, quando parliamo di misericordia, c'è tutto un grande registro che non coinvolge assolutamente una colpa, un delitto, un malefatto, un danno che è perpetrato nei confronti di qualcuno, che, appunto, poi, nella vecchia morale cattolica si chiama ancora peccato, diciamo, ma anche nel diritto, nel diritto naturalmente canonico, esiste la parola peccato, ma questo non c'entra con la misericordia del primo registro. Poi, invece, c'è un altro registro che è quello, appunto, della colpa, che chiede, tuttavia, una consapevolezza. Il peccato deve essere avvertito. Ci deve essere una coscienza che sia in grado di chiamare dei comportamenti peccato. E questo sia il registro del perdono. Perché quando si parla del perdono bisogna ammettere un delitto, quantomeno, se non vogliamo proprio chiamarlo peccato, ma un delitto. Per cui io chiedo il perdono a te, a Dio, ma anche a un fratello, una sorella, una moglie, un marito, un figlio, un amico, qualcuno, insomma, una persona, un essere umano. Quindi il perdono apre, come dire, una sorta di percorso molto più profondo, più lungo, più, insomma, diverso da quello che può essere, invece, il percorso di una misericordia che è semplicemente, che è semplicemente, non è una cosa da poco, ma dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, eccetera, eccetera. Sono queste, prego? Ammonire i peccatori. Anche, esatto, ammonire i peccatori. Però ecco, l'ammonire richiama, come dire, anche qui un atto di carità. Però ecco, io ammonisco, posso ammonire quello che io considero un peccatore, ma il perdono bisogna viverlo in prima persona. Cioè, il perdono è un'esperienza. Tanto è vero che la Bibbia parla del perdono non con definizioni. Qui c'è un biblista, penso che si possa discutere su questo. Non c'è nessuna definizione del perdono nella Bibbia. È difficile anche rintracciare il vocabolario del perdono, perché ci sono tante parole a costituirlo, diciamo. Quello che, sono profondamente convinto, è quello che dice Jacques Derrida in questo libro, che è Perdonare. E lui dice, il perdono è, in effetti, è qualcosa che si può soltanto raccontare. Ha ragione, ha ragione. È una narrazione. I biblisti anche dicono questo, non molti biblisti. Allora, come viene raccontato il perdono? Come è stato raccontato quest'anno il perdono? E poi passo alla Bibbia, così, naturalmente, sono, mi raccomando, suggestioni, che quindi poi, spero, possano generare in loro il desiderio di entrare proprio nella Bibbia in questo percorso, che poi, insomma, è fatto di tantissime strade. Allora, mi sembra di poter dire questo. Facendo un bilancio, che interesse quest'anno c'è stato per il perdono? Allora, tre cose. Mi sembra... come dire, l'interesse è stato di tre tipi. Primo, un interesse individuale. Cioè, siamo andati a Roma, siamo i cattolici, sono andati, oppure, siamo andati, noi cattolici, io sono cattolica, a San Petronio, insomma, abbiamo passato la porta. Passando la porta, abbiamo chiesto a Dio il perdono dei peccati, a Dio abbiamo chiesto indulgenza, non indulgenza, lasciamo stare. Io, mi sembra che la parola che il Papa ha detto appunto, no, al, insomma, un gesuita molto amico suo, non voglio fare nomi, dice, io sono un peccatore cui Dio ha guardato. Ecco, sì, credo che questa esperienza individuale sia stata, sia stata molto sentita, insomma, vissuta. sono un peccatore, Dio mi ha guardato, Dio mi perdona, io consegno i miei peccati, riconosco i miei peccati e il Signore mi perdona e quindi mi alleggerisce e si va avanti. Uno, secondo, un modo di recepire, diciamo, il perdono che definisco morale, morale, sì, molto frequentato dal Papa Francesco, cioè l'apertura ai peccatori, l'apertura ai peccatori per i cattolici, per i cattolici sono i peccatori, cioè i lontani, le umanità, diciamo, distanti da, non so, dalla pace, tutte quelle persone che operano anche il male in questo mondo, insomma, non lontane da, prego? Le periferie. Le periferie, ecco, d'accordo, ecco, mi raccomando, in tutti i sensi, anche proprio le persone, non so, pensiamo alla Camorra, Casal di Principe, e tanti altri esempi del genere, questo lo chiamerei proprio un perdono morale, cioè, un'apertura a quei peccatori, cioè, mi sembra di poter sempre citare una frase del Papa, che sono io per giudicare, quindi, il perdono inteso come una, come dire, inabilità, o mancanza di ragioni per giudicare, e questo ha segnato per la Chiesa, un passo molto importante, perché? Perché fino a pochi anni fa, almeno quando io, insomma, ero già grandina, non proprio bambina, c'era un timore, no, di fronte al fatto di essere peccatori, di essere distanti dalla Chiesa, di non, di non, non so, frequentare, no, ambienti sani, ambienti, ambienti, così, religiosi, qualcuno che si avvicinasse, poteva avere il timore, la paura di essere giudicato, questo, per esempio, è capitato tante volte con le famiglie, con le coppie divorziate, eccetera, diciamo adesso in Chiesa non posso venire più, perché mi giudicano, il Papa ne ha parlato anche a proposito degli omosessuali, no, famosa, dice, ma chi sono io appunto, per giudicare, quindi, morale, cioè un'apertura della Chiesa, un'apertura che il Papa Francesco, naturalmente, secondo me è stato proprio, no, quello che ha promosso di più, questa apertura, a tutte le umanità bisognose, le periferie, la Chiesa non giudica, ma accoglie, la Chiesa accoglie, la Chiesa ha uno spirito di inclusione, non più di dogana, la Chiesa non si presenta più come una dogana, dove bisogna pagare qualcosa per poter entrare di là, insomma, bene, terzo, terzo così, modo di vivere il perdono, mi sembra, sempre, Papa Francesco è stato un grande protagonista, ieri stesso mi sembra, dicevo oggi su avvenire, ma è rispondere all'odio con l'odio, molto importante, questa è una cosa importantissima, perché, non solo è stato detto ad Assisi, qui c'è appunto Riccardi, qui in piazza, è stato detto, mi sembra da un buddista, se ricordo bene, dice l'odio si combatte soltanto con l'abbandono dell'odio, il Papa Francesco ieri incontrando in udienza, in sala nervi, i parenti delle vittime di Nizza, del terrorismo diciamo di Nizza, ha detto proprio questo, mai rispondere all'odio con l'odio, questa frase è diventata proprio, direi una cifra tipica, dell'atteggiamento di Papa Francesco, e quindi, diciamo, di una grande parte della Chiesa Cattolica, nei confronti del terrorismo di matrice, di sigla religiosa, che Papa Francesco, tra l'altro, ha spesso criticato, dicendo, no, si tratta, non è, non è la ragione, può essere, come dire, un'etichetta che viene apposta, su certi atti terroristici, quella religiosa, di fatto è la vendita delle armi, cioè chi guadagna, Papa Francesco l'ha detto fin da quello che accade con Chalibdo, se loro ricordano. Su questo punto c'è una grande discussione, perché tutti loro sanno che ci sono quotidiani, li vediamo, li leggiamo, che hanno cominciato proprio a fare una critica sistematica a questo giubileo, diciamo, a questo perdono di cui il Papa parla, cioè, dicendo, no, bisogna reagire con forza, bisogna porsi con una identità forte, e quindi non si può perdonare. Il perdono come una sorta di buonismo da parte del mondo cattolico, è come un chiudere gli occhi, cioè un non voler rispondere alla violenza con mezzi efficaci, quindi il perdono quasi come la svendita dell'identità della Chiesa cattolica, mi pare. Ecco, queste sono un po' tre cose che, ma che cos'è il perdono nella Bibbia, dunque? Ma io sono stata appunto, ho studiato dei gesuiti, quindi sette punti brevissimi. Il primo, il perdono è una concezione della vita nella Bibbia, una concezione della vita, che risponde a un testo che noi troviamo nel libro di Genesi, che è questo, la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, questo è, come dire, la base del perdono nella Bibbia, se non si avesse, insomma, la chiarezza che, insomma, il primo punto del perdono sia un patto, non si capirebbe niente del perdono. c'è un patto tra chi? Tra uomo e uomo, tra uomo e donna, tra uomo ed animali, nelle creature del cosmo, e nelle creature della città. C'è un patto, diciamo così, ecologico, e c'è un patto politico, perché la città si chiama polis, e quindi, la legge in Israele, la legge, è la Costituzione di Israele, è la Costituzione. Questa Costituzione dice, questo popolo ha stretto un patto, verso quali direzioni? Siamo al primo punto, vado subito al secondo. Due direzioni, un patto con un Dio, e un patto con il prossimo. Il patto è sempre a tre, non è mai a due. L'alleanza nella Bibbia è sempre a tre, non è mai a due. Perché? Perché questo Dio ha stretto un patto con tutto questo popolo, non solo con degli individui, non con una fascia particolare, non con una classe particolare di questo popolo, d'accordo? Né con i giusti, soltanto. ha stretto un patto con tutto questo popolo, giusti ed empi, giusti ed empi. Primo punto. Poi vedremo perché, naturalmente. Allora, questo primo punto fonda, permetto di dire, l'antropologia biblica. Cioè, l'essere umano nella Bibbia è un soggetto, come si dice, in relazione, di relazione. Di relazione. L'essere umano è un soggetto di relazione. Per questo si chiama anche, secondo certi autori, un soggetto spirituale. Soggetto spirituale nella Bibbia, un soggetto di relazione. Quindi, l'essere umano non è una cristallizzazione a sé stante. Non avrebbe neanche un nome, se fosse una cristallizzazione a sé stante. Cioè, nessun essere umano nella Bibbia esiste per sé stesso. Tanto è vero che quando li creò, Genesi 1, 27, maschio e femmina li creò. Al di là del genere. No, no. Qui è proprio che si è una relazione. Questo per parlare di Genesi, poi naturalmente questo nella legge. Bene. Secondo punto. Questa antropologia, diciamo, si fonda su che cosa? Ma su una adesione libera. L'uomo biblico è intelligente. È intelligente ed è sempre consultato. Sempre consultato. Cioè, c'è una proposta. Cioè, quello di essere una creatura che si pone in relazione con l'altro, lo puoi scegliere. Puoi anche non esserlo tu. Secondo punto. La libertà. Quindi, Israele può rompere l'alleanza. Lo può fare. Ci mancherebbe altro. È stata proposta, infatti, è solo 19. Questa alleanza non è stata, come dire, imposta. È un dono. È un atto di libertà anche da parte di chi la propone. Che voglio dire? Che l'antropologia è lo specchio della teologia biblica. Se l'uomo è libero, anche Dio è libero, altrimenti Dio non potrebbe essere più libero. Siccome Dio si rivela proprio nel suo mettersi in relazione con l'uomo nella Bibbia. Quindi, se l'uomo non sarebbe libero, se Dio non fosse libero. Che significa? Che Dio non è tenuto ad allearsi con Israele. Lo fa. Lo fa perché lo vuole fare. E perché sente qualcuno che grida nell'Egitto, non è neanche un popolo, nessuno ascolta il suo grido, lo ascolta lui. Il sublime primo atto di libertà di Dio, che è un atto di ascolto. ascoltò il grido, scese per vedere come mai questi gridassero. Nessuno, non avevano un posto sulla terra. Quindi, questo è il racconto. Bene, tuttavia, Israele può, può assolutamente, andiamo avanti, velocemente, altrimenti, non possiamo, può assolutamente rompere questa alleanza una volta che l'abbia stipulata. Lui l'ha stipulata. Israele ha detto sì, d'accordo, io ci sto, gli anziani, c'era una democrazia, c'era un senato, tra poco noi forse non ce l'avremo più, ma quella volta c'era un senato, c'erano gli anziani e questi anziani dissero sì, come proprio portavoce di tutto il popolo. Si unirono, ma subito dopo invece cambiarono un'idea, questa è la libertà, si può cambiare idea e il popolo di Israele lo fa. Terzo punto, che cosa fa? Ne subisce un danno. Il popolo che dice di no, che infrange l'alleanza, pascià il verbo, cioè rompe questo patto di relazione e dice posso fare da solo? Che fa? Fabbrica l'idolo. L'idolatria è l'autonomia dell'uomo nella Bibbia, non è nient'altro, perché tu fabbrichi un idolo il vitello d'oro dice molto bene il capitolo 32 per poi adorarlo. L'idolatria sono tante cose che noi ci fabbrichiamo per poterle adorare. È una forma di stupidità grandissima come dice il libro di Osea. Perché? Perché tu adori l'idolo, l'hai fatto tu, dice portano, fanno questi idoli con Isaia, costruiscono gli idoli e poi sono costretti le statue, i falignami, le fanno gli orafi, eccetera, e poi dice però sono costretti a portarli sulle spalle. Come quando noi ancora poi dopo è ritornato, questo culto dell'estato, certe volte no. Ecco, però è una metafora per dire che cosa? Che l'uomo può scegliere Israele nella fattispecie sceglie una libertà tra virgolette solitaria e mercantile. Perché qui entra in gioco che cosa? Il do ut des, cioè il mercato, il mercato. La compravendita. Allora, quando si infrange questa relazione che è una relazione anche affettiva, perché Dio dice nel libro del Deuteronomio io ti ho scelto, vi ho scelti, perché vi amo e basta. La libertà è un amore senza una ragione, incondizionato. Invece, quando Israele spezza questo tipo, come dire, rifiuta una qualità della relazione. Poi certo si crea altre relazioni con gli idoli, diciamo, ma li deve pagare. Eh sì, come noi, paghiamo tutto, tutto si compra e tutto si vende. Non per nulla nel libro degli atti al capitolo quarto si dice che quando venivano nella comunità cristiana invece, che facevano semplicemente? Vendevano prima, prima potevano comprare e vendere, poi vendevano, lo lasciavano lì, il ricavato, quindi diciamo è lo strumento di questo mercato, i soldi, li deponevano, il verbo indica proprio mettere per terra, ai piedi degli apostoli, i quali poi invece non compravano e vendevano più con quei soldi, con quel ricavato, ma distribuivano a ciascuno secondo il proprio bisogno. Quindi, allora, siamo dentro un'economia che coinvolge tutta la vita, la vita, la storia, le società, le varie forme, diciamo anche, appunto, economiche. e politiche, ok, bene, però appunto Israele dice si sta meglio vendendo e comprando, io faccio un sacrificio all'idolo e dall'idolo mi aspetto che mi ricompensi. Possiamo pensare, loro possono pensare alla, come dire, al modo di ragionare, proprio che è lo stesso, del figlio minore che andò via dal padre e come loro sapranno, quella che era la vita, una relazione vitale con il padre, lui la trasforma, Bios, proprio in greco, Eusia, in sostanze, cioè beni materiali, con cui lui si mantiene, cioè finché non arriva la carestia e si accorge che senza relazioni non si, è finito il tempo? Però vi chiedo, no, l'ho messo prima, posso? No, ancora tranquillamente un quarto d'ora. Un quarto d'ora? Perfetto. Bene, allora, insomma, questa è una scelta che deve fare Dio a questo punto? Secondo giustizia? Avevano fatto un patto, chi rompe il patto paga e quindi se tu uccidi tuo fratello perché poi, diciamo così, questa scelta di solitudine e di idolatria vedeva il sacrificio di chi? Dei più deboli, per cui, insomma, per il mio interesse io calpesto i miei fratelli. ed ecco allora il punto quarto centrale che Dio decide di tagliare naturalmente. Deve farlo. Perché? Perché nella legge è stabilito questo che se tu sei fedele io ti condurrò, ti farò vivere per generazioni, generazioni conoscerai i tuoi figli, i tuoi nipoti. Se tu non sei fedele io rescindro l'alleanza e rescindere l'alleanza significa che ti mollo qua in mezzo a questo deserto e quindi tu morirai. Cinque, una figura importantissima adesso arriviamo al perdono è Mosè, cioè una terza persona. Il perdono non si celebra in due, è impossibile, ci vuole un mediatore, ci vuole qualcuno che stia in mezzo, no? E quindi Mosè è la figura chiave del perdono. Mosè poi sarà Amos, poi sarà anche Geremia, ci proverà, ma i profeti ci proveranno sempre. Quando si dice la preghiera, la preghiera che cos'è se non la supplica, una parola di difesa, più che di difesa, di supplica, perché quando Mosè chiede a Dio, letteralmente dice non farlo, anzi, il verbo che usa è shuv, che significa, si tradurrebbe, convertiti, signore. Non fare, abbandona, un uomo che dice a Dio, convertiti, abbandona, allontanati dal male che vorresti fare al tuo popolo, che sarebbe stata la giustizia retributiva, è l'occhio per occhio, no? Questo popolo l'aveva abbandonato, aveva fabbricato il vitello d'orio, ma Mosè si mette in mezzo, vedete questa? L'intervento di un profeta, di Mosè, è veramente una simmetria, cioè, è un elemento nuovo in questo, no? C'è un patto, bisogna rispettarlo, il patto. Quindi, perché si possa procedere verso il perdono? si deve mettere in mezzo qualcuno che abbia una ragione più forte della giustizia, diciamo, della giustizia retributiva. Mosè dice, ma no signore, ma no, convertiti, torni indietro, ricordati, non che una volta, però Israele ti è stato fedele, no, non dice questo, perché è difficile ricordare una volta, precisa, ma ricordati di quanto bene gli hai voluto tu a questo popolo. qui si comincia a parlare il linguaggio del perdono che come si può vedere emerge da quella simmetria che è appunto la legge giusta, la legge che Gesù non ha mai, mi raccomando, nel testo di Matteo, non ha mai abolito, Gesù non ha detto io vengo ad abolire l'occhio per occhio, io vengo a dirvi molto di più, cioè che non basta obbedire alla legge, non basta osservare la legge, per creare che cosa? La relazione, non basta per veramente, vediamo, appunto per ottenere la cosa più importante che anche animava la legge, ma allora, Mosè si mette in mezzo, si mette perfino come ostaggio e c'è un testo stupendo perché che appunto viene citato, si mi sembra qui, sempre, da Piero Stefani e dice, dice Dio, nell'ora in cui io faccio quello che decido, sentite, cioè conquisto quindi, cioè io, il popolo è infedele, io lo punisco, quindi io vinco sul popolo, per me è una perdita, lo dice Rabbi Lakish, ma nell'ora in cui io sono conquistato, io guadagno, questo è un altro, realmente un commento, a che cosa? Alla figura di Mosè, quando Dio si fa, perché per ben due volte, nel capitolo 32 e 33, si dice che Dio si lasciò convertire da Mosè, ascoltò quello che disse Mosè e quindi, però, non lo viveva, non è stata, come dire, per lui sarebbe ovviamente una perdita, ma come? Questo popolo si fabbrica un vitello d'oro e io lo faccio vivere lo stesso, è una perdita quasi, no, come si può dire, della propria autorevolezza, ma Dio entra in un'altra, piano piano, Mosè ce lo porta, entra in questa logica, sei, Mosè fa riflettere Dio, lo fa riflettere su che cosa? Hai cominciato, l'hai portato fuori dall'Egitto, ma adesso signore, ma lo vuoi lasciare qui in mezzo a queste lande di ululati solitari che è il deserto, ma no, non lo fare, che dirà Faraone? Ti prenderà in giro Faraone? Perché dirà, ah beh, la fate uscire solo per fargli morire nel deserto, questo è, è il linguaggio del perdono, il linguaggio del perdono, veramente il linguaggio, come si può dire, affettivo, umano, ma soprattutto, sapienziale, perché Mosè dice, signore, non lasciarti prendere da questa giustizia che ti porterà a fare il male a questo popolo, e poi signore, dirà a Geremia, ma tu non vedi che la terra languisce? Se tu li punisci, li fai morire, che cosa accadrà? Non vedranno mai una lezione diversa, punire l'odio con l'odio, con la violenza, è questo il limite della legge, è la violenza, non dà una lezione diversa e soprattutto non dà la vita. Quindi il perdono, che cos'è? È, come si può dire, è l'unica uscita ragionevole della giustizia della legge, quindi sono stati chiamati antitesi, io non sono contraria a questo, perché non sono antitesi, sono antitesi dal punto di vista formale, quelle di Matteo, di fatto c'è uno sviluppo, perché chi conosce il primo testamento, questo lo sa, sa che Dio, che il Dio del perdono non l'ha inventato Gesù, c'è già, fin dalla stipulazione dell'alleanza, ci sono due alleanze e ci sono due volte le tavole della legge in due capitoli dell'Esodo, all'inizio, perché? Perché a un certo punto Dio vuole dare la vita a questo popolo che è schiavo, eccetera, si rende conto che con la legge, con quella giustizia, non ce la fa a farlo, e quindi, sette, il perdono, che cos'è il perdono, è una doppia conversione di Dio, perché Dio dice, va bene, continuerò, a fare che? A credere in questo popolo, il perdono è un atto di fede rinnovato e rinnovabile continuamente di Dio nei confronti dell'umanità, questo è il perdono, ma non lo può fare da solo, intanto abbiamo detto che se non ci fosse stato Musè, non so come sarebbe andata a finire, l'intenzione di Dio era di distruggerli, l'ira di Dio, l'ira, ma c'è un altro, un altro punto interrogativo, il popolo lo vorrà o no? Il perdono, mi colpisce appunto vedere le persone che oggi, stamattina hanno avuto, non so, gli è stata ammazzata la madre e il pomeriggio ai giornalisti dicono io ho perdonato, questa è una è una sceneggiata del perdono, cioè questa è un'offesa gravissima al perdono biblico, quantomeno, il perdono è un sacramento nella Bibbia, cioè è un rito anche, cioè si deve celebrare, non è che io sono buona, non è la generosità di Dio il perdono, affatto, non c'entra niente la generosità, non è la benevolenza, non è tantomeno come si può dire Dio come Dio deve essere giusto, Dio deve dire che la vita dell'altro tu non la puoi, mica può dire non uccidere Dio, non so se mi spiego, se Dio condonasse sarebbe complice dell'assassino, Dio perdona come vittima, come vittima, non come giudice, mi spiego, non si può perdonare come giudice, se tu perdoni come giudice, sei complice dell'assassino, tu perdoni come vittima, e questo appunto, ci sono diversi autori che dicono che non studiano, hanno fatto scrittore bellissime cose su questo, e allora il perdono che cos'è? È l'arte di ricominciare, a fare che cosa? A stare insieme, e quindi come dire, nella Bibbia questo ha una durata, è un percorso, è una storia lunghissima, in un primo momento c'è la giustizia, è giusto, perché tu devi imparare che non devi cavare un occhio a tuo fratello, devi sapere che l'occhio di tuo fratello vale come il tuo, come dicevamo prima, tutto quello che è scritto nella legge è giusto, non rubare, eccetera, non prendere la parte dell'altro, perché amerai il tuo Dio e amerai il tuo prossimo, quindi, però poi che succede? c'è un tallone di Achille della legge, la legge è debole, perché? Perché purtroppo è stata data per la vita, per custodire questa alleanza, ma la morte, come diceva appunto Gandhi, occhio per occhio e fu così che l'umanità finì tutta cieca, Paolo dirà faccio il male che non voglio, è questo il problema, per cui il perdono che cos'è? È un andare avanti, è un continuare a credere che senza il legame, senza un'alleanza, senza un patto, non c'è vita per l'umanità, non c'è vita e quindi tutto questo che cosa significa naturalmente? Significa rimettersi in gioco, Dio si rimette in gioco, Israele si rimette in gioco, con chi si rimette in gioco? con chi si rimette in gioco, Dio? Con qualcuno che l'ha abbandonato, l'ha disprezzato, gli ha sputato addosso, pensate a Gesù, con chi si rimette in gioco, Gesù? Perdona, è una cosa che attraversa, è un'esperienza anche tragica, perché tu ti rimetti in gioco con gli aguzzini, Caino, Genesi 4, è il testo più scandaloso della Bibbia, quindi, come dire, noi non capiremmo Gesù sulla croce che dice perdona loro perché non sanno quello che fanno senza aver letto Genesi 4, cioè Caino e Abele, lo scandalo è che Dio non uccida Caino, questo è lo scandalo, perché? Ma Caino ha ucciso Abele, eh? E allora noi diciamo il sangue, i sangui, gridano dalla terra e arrivano fino a Dio, quale riscatto per Abele? Perché Dio non fa morire Caino e non fa risorgere Abele? Sarebbe stato giusto, questa sì che è una simmetria, che dite? Io penso, perché se anche avesse fatto risorgere Abele, e quindi morire Caino, Abele sarebbe stato solo. Ci capiamo? Vorrei capire questo punto. Cioè, senza un fratello non poteva vivere. Certo, è un assassino tuo fratello, ma tu hai bisogno di un fratello, perdono arriva qui. Ecco perché, appunto, Derrida dice ci sono delle cose imperdonabili. Eppure bisogna raggiungere la Shoah. è perdonabile o non è perdonabile? Ancora oggi quanti autori? È perdonabile? È il perdono, però è questo. Se diciamo è imperdonabile, il perdono non ci arriva. Ma che cos'è? Bene, non lo so, punto interrogativo. Cioè, senso, adesso concludo vedendo un po' delle difficoltà che noi possiamo avere. Proprio per titoli e poi mi fermo. Dunque, intanto, il perdono è un atto di forza. E non è un atto di debolezza. Ecco, cominciamo a dire che accusa il Papa di buonismo. Ma intanto un gesuita accusarlo di buonismo secondo me è sempre sbagliato perché è difficile che questo accada. Ma, no, è un atto proprio di forza. È un sentimento audace, forte. Ma noi in Occidente oggi che sentimenti abbiamo? Ma, non so, io pongo tutte domande adesso, per concludere proprio per vedere cosa, come vivere il perdono, che interesse addirittura possa avere oggi il perdono nella nostra, dopo, sono passati già 70 anni, insomma, le guerre non ci sono state più in Europa, insomma, va bene, certamente ancora, dice, ci sono debiti da pagare, il 900 ci ha lasciato, d'accordo, ma oggi i nostri figli che sentono? Ma, sentimenti forti? perché il perdono chiede una durata del rapporto, lunghissima, cioè, Dio poteva abbandonare il giorno dopo, si può dire, che avesse stipulato l'alleanza con Israele, Israele stesso, invece è andato avanti, ecco, la Bibbia cattolica fino a Gesù, c'è un tempo, l'Evangelii Gaudium, ci arriva là, cioè il Papa Francesco ha detto che il tempo è più importante dello spazio, sicuramente circa il perdono, e quindi oggi la durata che cos'è? Chiedo a loro? Non lo so, è molto poco, oggi la consistenza che cos'è? Non lo so, sono domande, eh? E quindi la resistenza, perché il perdono chiede una resistenza, chiede che io creda ancora in te quando tu mi hai fatto malissimo, tu sei stato il mio nemico, Giobbe, tu sei stato il mio nemico e tu sei il mio nemico, qui si scava il perdono, non è che dici, vabbè, tu mi hai fatto del male, io per fortuna adesso ho una persona che mi fa del bene e me ne vado di là, non è questo, il perdono è la riconciliazione, con chi ti ha fatto del male, tu oppure con te rimettere in gioco te che tu hai fatto del male, ancora più difficile per me, con i figli, noi facciamo, io sono una madre, come penso quanto è difficile accettare di aver fatto del male ai figli, perché comunque penso che non ci sia nessuno qui alzi la mano che non ha fatto qualche danno ai propri figli, non ci si può tornare indietro, è vero, non si può più fare tabula rasa, no, è questa la forza del perdono, ma quanta fede ci vuole, perché tu quella ferita la vedi aperta e la devi riaprire addirittura per farla guarire, il perdono non è dire vabbè ma non l'hai fatto apposta, no, l'hai fatto proprio apposta, ma hai fatto proprio male, però guariscimi, il perdono dice la relazione con te è l'unica cosa che mi possa guarire, mamma mia, mi spavento anche a dirlo, e quindi oggi si rescinde una relazione e lo si considera un diritto individuale, è un diritto, io rescindo una relazione, quante coppie continuano finché non vanno dall'avvocato continuano a vivere sotto lo stesso tetto, è pacifico, è pacifico, cioè io ho diritto, oggi io non ti amo più, me ne voglio andare e quindi è un mio diritto individuale, al punto che mi veniva a dire così, il Dio della Bibbia che quando lei lo abbandona fa, si lamenta, piange anche io, cioè supplica, ti prego torna da me, lei va dietro a lei, eccetera, fa stalking, oggi lo chiameremo stalking, mi è venuta in mente proprio, ma la preghiera non è una forma di stalking alla fine, cioè tuo figlio se n'è andato sbattendo la porta dicendo non ti voglio più vedere e tu non hai il diritto di dire ma no, prego, perché non lo fai, non lo puoi fare, lo puoi fare una volta, la seconda volta no, perché se no cambia il numero di cellulare, adesso sto, non è una sciocchezza, ma no, è che noi abbiamo i diritti, cioè il diritto individuale è sacro e quindi il diritto individuale va benissimo, non sto dicendo che non ci deve, però è un problema per il perdono, perché? Perché il diritto individuale mi dice la relazione con te mi ha creato problemi, vado dallo psicologo, ma io non mi metto a tavolino, però i testi narrativi del perdono nella Bibbia sono questi, tu hai ucciso, tu io, eccetera, naturalmente deve essere tutto detto il delitto, il perdono non significa che tu io mi dimentico, dopo io non ci penso più, ma non è che io non ti dico guarda che tu mi hai fatto malissimo, tu hai ucciso tuo fratello, ci mancherebbe, bisogna dirlo e non solo, c'è un versetto stupendo per me sempre, Isaia 1,18, quando Dio vuole offrire un'altra possibilità a questo popolo, che cosa a Gerusalemme dice a Gerusalemme su venite, discutiamo, è bellissimo per me, uno dei testi più belli del mondo, qui, così si fa il perdono, è un atto sapienziale, ma non è il Signore la magia, no, no, bisogna passare proprio attraverso, ma se noi oggi basta un non nulla, basta che tu non chiuda certe volte, davvero, come si dice, il dentifricio, perché tu lo lasci sempre aperto, basta, non ti sopporto più me ne vado, e non parliamo più di niente, perché non c'è neanche il diritto di farlo, beh, questo è un grande problema, la liquidità delle relazioni, come possiamo parlare di perdono, ma soprattutto, l'ultima cosa, perché evidentemente sono andata proprio fuori, è troppo, mi spiace il tempo, no, allora, il tema del proprio interesse, questo è un tema naturalmente che è politico e sociale, no, perché naturalmente il patto c'è, c'è un patto sociale, abbiamo parlato di relazioni coniugali, ma il perdono, come dire, deve esserci dentro una società che abbia un'idea di sé come di un luogo di comunione, la società, come si concepisce la società, che cos'è? È un luogo, uno spazio, ecco, la società è uno spazio dove ognuno cerca di occupare più possibile, no, e quindi di vivere tollerando la presenza dell'altro perché comunque ognuno ha il suo spazio o è invece un tempo, cioè un tempo per innescare dei processi, cioè delle relazioni, cioè degli intrecci, cioè il bene comune, insomma, per seguire un bene comune, cioè la società si concepisce come un corpo o si concepisce come la somma di tante membra senza giunture, tutte metafore bibliche, è un corpo, lo scopo di una società qual è? Quello che tutti vivano, come era lo scopo appunto del popolo di Israele, quando Dio a un certo punto tartassa Israele, quando c'è qualcuno che ha tre case, una in città, una in montagna e una al mare e molti altri che non hanno neanche una capanna, solo un mantello e talvolta veniva preso pure impegno quel mantello, quindi non dimentichiamo, quando parliamo di perdono parliamo di un'alleanza con tutto il popolo, non con il singolo, quindi bisogna stare attenti a un rapporto individualistico con il perdono, ma allora, dunque, dico questo e mi fermo, dunque il 20 ottobre in Italia, come dire, c'è stata la preghiera per la pace, sì sì, e è stato molto, non è il 20? Settembre, no scusate, pochi giorni fa, e, beh, insomma, queste persone, no, hanno detto tante cose meravigliose, un segno intanto, ma il patriarca Bartolomeo ha detto una cosa molto bella, dice, noi religioni dobbiamo fare autocritica, so se avete sentito, però questo è importantissimo, dobbiamo fare autocritica, perché? Perché una volta anche noi, ognuno di noi faceva i propri interessi, e quindi chiamava l'altro il nemico dentro le chiese, questo l'ha detto Bartolomeo, ecco, e quindi dice, no, ora nemico non c'è più, ma c'è fratello, beh, secondo me questa era una notizia da prima pagina, su tutti i giornali del mondo, quelli laici anche, cioè voglio dire, allora, c'è l'angoscia della guerra di religione, la guerra di religione, c'è un momento come questo in cui addirittura un cristiano ortodosso dice, dobbiamo fare autocritica e quindi dobbiamo cancellare, cioè dobbiamo smettere di identificarci secondo il nemico e cominciare a identificarci secondo il fratello, quindi no, la relazione, beh, doveva interessare tutti, invece il giorno dopo, finisco, su Repubblica, per esempio la Repubblica, non c'era niente sulla preghiera di Assisi, l'avete visto? Neanche un trafiletto, a un certo punto, non so in quale pagina, diceva perché il Papa, invece, naturalmente il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt è una questione di ordine, diciamo, del mondo, no, no, ma non è, però, dove siamo, dove viviamo, in quale mondo noi viviamo? Lo stesso giorno, proprio l'ultimissima cosa, immagine, c'era la conferenza dell'ONU, lo stesso giorno, 20 settembre, c'era il discorso, almeno era cominciato prima, di Obama, Obama ha fatto un bellissimo discorso, anche perché era stato l'ultimo suo discorso, ha parlato di abbattimento dei muri, ha recitato ancora Martin Luther King, eccetera, però c'è un punto nel discorso di Obama, premio Nobel per la pace, il punto è proprio questo, che è molto, per noi, è interessante proprio tutto quello che abbiamo potuto dire sul perdono, cioè, lui ha detto, noi vogliamo abbattere, noi non vogliamo entrare, no, nelle questioni, naturalmente dietro c'era la questione del Medio Oriente, della Siria, eccetera, però, con una clausola, dice, se Putin, adesso, fa quello che fa, ogni paese, deve fare, deve badare, ai propri interessi, guardate, è testuale questa, allora, nella Bibbia, la pace, è fatta di perdono, e non di cura, dei propri interessi, quindi l'ONU, Organizzazione Nazionale, delle Nazioni Unite, creata, istituita, per curiosità, andatevi, andatevi, se vogliono, vadano a rileggersi, i primi, no, articoli, numeri, della, dell'ONU, dunque, intervenire, nelle situazioni, di conflitto, nel mondo, questo è il motivo, per cui l'ONU esista, beh, che dire, tanto è vero, che insomma, le notizie di oggi, su Aleppo, sono veramente, molto consolanti, quindi, il mondo, ha bisogno di perdono, e il perdono, non è una cosa individualistica, né devozionale, affatto, nella Bibbia, quindi io mi fermo, e vi ringrazio, so faccio, ved cep e vi ringrazio, v ecco,